Entra nel vivo il mercato di eccellenze e promozione, il Solofra è pronta ad assicurarsi le prestazioni di Salvatore Avallone, il centrocampista ex Sant'Ommase Declanese quindi si prepara a tornare nel massimo campionato regionale, dopo sei mesi disputati a Mirabelle Clano da protagonista. Un colpo importante per i conciari che vogliono tornare ai fasti di un tempo. Fondamentale riconferma in casa Ariano, il suo Dalizio Fitano potrà contare ancora sulle prestazioni di Leonardo Luzzi, il centrocampista ex Virtus Avellino classe 91 sarà quindi il primo giocatore a vestire la maglia della vista il prossimo anno. In casa Baiano, dopo la permanenza di Sgambati e l'arrivo di Bomber d'Avanzo, sono 13 le riconfirme, tra cui Angelo Colucci e l'esperto attaccante Francesco Gaglione. La neopromossa gallucese ha avuto contatti con mister Di Rienzo. L'allenatore di Grottolè la piace anche in prima categoria a Lioni, Paternopoli e Friggento. L'ex attaccante era stato avvicinato anche da Rocca San Felice, formazione di seconda. Nel frattempo Sebastiano Fiordellisi lascerà il Gallo per accasarsi al Fisciano in prima categoria. Il Forino, che è tornato in seconda, invece riconferma mister Rega.